Monografia, monografia questa settimana dedicata purtroppo ad un altro scomparso del nostro cinema, ovvero Carlo Lizzani era nato a Roma il 3 aprile del 1922 e è morto a Roma, aveva 91 anni il 5 ottobre di quest'anno. È stato partigiano, ha partecipato alla resistenza romana, è stato critico, saggista, è stato sceneggiatore, è stato anche attore, documentarista soprattutto e grandissimo cineasta. Dal 79 all'82 ha anche diretto la mostra del cinema di Venezia e nel 98 ha pubblicato una raccolta di scritti che si chiama Attraverso il 900, l'ultima pubblicazione per cui ha vinto anche un premio. Nel 2007 la sua autobiografia Il mio lungo viaggio nel secolo breve, per cui insomma per chi avesse voglia poi di saperne di più sul grande Carlo Lizzani può insomma recuperare anche questo. Era tutor del corso di filmmaker dell'Accademia Act Multimedia di Cinecittà e si è tolto la vita il 5 ottobre gettandosi dal balcone del suo appartamento in via dei Gracchi proprio a Roma. Si è gettato dal terzo piano, ricorda il gesto di Mario Monicelli solo di qualche anno fa. Avevano entrambi lavorato per far rinascere il cinema italiano nella dopoguerra, fautori di quello che è stato il grandissimo neorealismo. Parte Lizzani come critico cinematografico, scriveva, insomma faceva parte della redazione di Cinema e di Bianco e Nero, è qui che fa i primi passi nella settima arte. Poi comincia ad essere sceneggiatore di Aldo Vergano per la pellicola Il sole sorge ancora e De Santis lo noterà da qui e lo imporrà come suo sceneggiatore soggettista di fiducia per pellicole come Caccia tragica, come Riso amaro che tra l'altro gli verrà la nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura e ancora per Non c'è pace tra gli olivi. La sua opera prima come, diciamo, cineasta, come regia è un documentario, Viaggio al Sud, che è il primo di moltissimi documentari. Rimarrano i documentari, la grande passione di Lizzani per tutta la vita. Nel 1948 vince il premio per la migliore sceneggiatura originale al Festival di Locarno per Germania Anno Zero di Rossellini, che aveva scritto insieme al regista e a Max Clopé. Nel 1951 debutta con il suo primo film di finzione che è Actung Banditi e nel 1953 invece ottiene il premio internazionale di Cannes per Cronache di Poveri Amanti con Marcello Mastroianni. collaborerà con Antonioni, con Fellini, con Dino Risi, con Lattuada, con Pierpaolo Pasolini, con Ettore Scola. Vince il Davide Donatello per la migliore regia e anche un nastro d'argento per la migliore sceneggiatura per Banditi a Milano nel 1968 e poi collaborerà con Gianluca D'Arco, un bell'occhio, con Bertolucci e con Pasolini nella pellicola corale Amore e rabbia del 69. Del 74 invece è Mussolini ultimo atto con Rod Steiger ed Henry Fonda. Si trasferirà poi a lavorare nel piccolo schermo, farà diverse cose per la televisione. Nel 95 firma celluloide con Christopher Walken ne vince il Davide per la migliore sceneggiatura. È il segnito poi anche del premio François Truffaut del Giffoni Film Festival. Diciamo che negli anni ha sempre continuato comunque a cercare di recuperare la memoria del cinema italiano in tutti i modi, soprattutto con i documentari ma in generale anche con tutta la sua cinematografia. Nel 2007 presenta alla Mostra di Venezia fuori concorso nella sezione maestri il film Hotel Meina. Qualche frase del grande Lizzani «Sono arrivato ad un punto della mia vita in cui sono stanco di cronaca e violenza e poi, diciamo la verità, dopo Tarantino e Scorsese che ci si può inventare?» Un'altra frase celebre «Ero tentato dalla politica, la mia vocazione era un'altra. Ancora prima della lotta clandestina aveva sognato la letteratura e il cinema». Questa è stata la sua grande passione fino alla fine, fino all'ultimo, fino al 5 di ottobre di quest'anno quando Carlo Lizzani, malato e depresso per via anche della malattia della moglie, si è gettato dal terzo piano ed ha lasciato in casa solamente un biglietto per i suoi figli. Stacco la chiave. Antract Relato 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 Grazie a tutti